Professore Giorgio Romano, come è nata l'idea di scrivere quest'ultima fatica letteraria? Praticamente è nata il fatto che per come vanno le cose nel mondo è giusto che si dia un input a risolvere alcuni problemi spirituali e materiali. Il libro praticamente è suddiviso in due sezioni. La prima parte è a livello scientifico, medico. Paolo Pancheri mi ha dato il permesso di portare a un suo servizio depressione, ansia e insonnia. Praticamente Paolo Pancheri è il primario della clinica psichialica della sapienza in Roma. Tra l'altro come relatrice verrà la figlia per presentare questo libro. Quindi è a livello scientifico e a livello religioso, come hanno scritto il professore Franco Pistritto e Rocco Lobartolo, che hanno fatto la prefazione e la conclusione, è praticamente un incoraggiamento o una specie di soluzione per superare certi problemi. A proposito dei passi biblici, ci sono riportati passi, salmi e proverbi biblici. Questi devono essere visti in senso pratico, nel senso che uno va a vedere l'indice dove c'è quando sei triste, quando sei stanco, quando sei depresso, prendi il passo adatto e si cerca di risolvere quanto desiderato e sperato. È una ricetta per stare bene se vogliamo. Sì, è una ricetta per stare bene. Guarda, io pensavo di averlo scritto per gli altri. L'ho uso e l'ho usato per me e ho visto che fa effetto. Per esempio, quando uno, in determinate circostanze, ha bisogno di aiuto spirituale e anche morale o materiale, va a cercare il passo adatto. Per esempio, quando ti invoco, esaudisci mio signore. E uno deve essere come i maccabèi, maccabèi significa martellante, non lo deve dire una sola volta. Ma tante volte, finché Dio, come se fosse una persona, ci ascolta e esaudisca i nostri progetti. E per quale motivo lei, tra parentesi, sottolinea una medicina per l'anima oltre al Prozac? Il Prozac, come dice Pancheri, che è uno dei migliori antidepressivi, praticamente può risolvere momentaneamente alcune cose, ma non curare.